il campo magnetico della terra si sta indebolendo lo scudo protettivo che ci protegge dalle radiazioni solari evita che la nostra pelle bruci sta diventando sempre più debole è quello che è stato presentato i dati sono stati presentati a una conferenza in danimarca e i risultati di questa conferenza vengono riportati dalla rivista focus e vi mettiamo il link nella descrizione del video ma qual è la causa in questo caso invece sono i complottisti a dire che è l'effetto di questo pianeta nibiru che si avvicina è una grande calamita che interferisce con la calamita che è il pianeta terra creando degli effetti di disturbo il cui risultato finale è l'indebolimento del campo magnetico ma noi nel nostro canale abbiamo provveduto a far uscire questa ipotesi dalla mela teoria e farla entrare nella storia abbiamo presentato intanto un racconto desunto dalla bibbia di colbrin di uno spettacolo che fu osservato nel passato uno spettacolo che di un qualcosa che singa un corpo celeste che ha estratto le ali diventando grande una scena nel cielo molto grande ora noi abbiamo detto che se fosse un corpo celeste si avvicinasse così alla terra tale da occupare una parte importante del cielo sicuramente distruggerebbe la terra per noi è un'ipotesi verosimile che invece questa scena che appare nel cielo sia l'effetto delle aurore boreali cioè le particelle solari che urtano contro il campo magnetico di questo corpo che sarebbe nibiru creando queste ali che vengono rappresentate nelle scritture antiche nei disegni antichi nelle raffigurazioni queste ali questo pianeta quello ali oppure un uccello in modi come viene rappresentato questa scena quindi questo racconto per noi è abbastanza importante ma è anche abbastanza importante una ricostruzione condata nel 1178 avanti cristo della volta che questo passaggio è secondo noi è avvenuto è avvenuto perché abbiamo provveduto a tirar fuori dalla spazzatura un evento che tale era stato classificato l'arresto del sole quindi abbiamo tirafatto dell'ipotesi che un grosso corpo celeste come nibiru abbia potuto veramente fermare la crosta terrestre e questo sarebbe proprio questo evento aver lasciato una fotografia nei reperti in rame che sono stati fusi in quel periodo e quanto riporta alla rivista anche qui la rivista focus un articolo che noi corrediamo sempre ai nostri video e quindi queste anomalie magnetiche che sono simili a quelle che si stanno verificando adesso sarebbero la foto del passaggio di questo grosso corpo celeste perché è l'unica una delle poche spiegazioni possibili di come si possa bloccare la crosta terrestre quindi vi invitiamo a prendere visione di tutti questi approfondimenti che metteremo mettiamo nelle descrizioni di questo video per rendervi conto che l'ipotesi che un grosso pianeta dotato di un fortissimo campo magnetico che si avvicina alla terra possa realmente generare questi effetti che sono ormai una realtà scientifica